Io d'altro canto crediamo che non ci sia niente come la costanza e la volontà di continuare su dei percorsi che hanno un grande senso e soprattutto che ci trovano uniti in questo momento lavorare, continuiamo a lavorare con risultati durati, personali, collettivi, relativi e il tema della università è fondamentale. Terrà illustrata poi l'iniziativa come si lavorerà quest'anno e che combinerà con la città di gara del 3 maggio, ma soprattutto se posso fatto un invito e vi invito tutti a votare online, sarò certamente tra i votanti ma mi auguro che è una città di mani. Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.